FASHION TIME Quali sono le novità nel mondo della musica Nokia oggi? Guarda, quello che posso dirti è che oggi Nokia presenta il Nokia Lumia 900, il Nokia Lumia 610 e su questi telefoni, come su tutti i telefoni della range Lumia, c'è la possibilità di ascoltare la musica con il servizio Nokia Musica che è un servizio esclusivo Nokia e ti dà la possibilità di ascoltare la musica in streaming oltre alla musica che è presente sul nostro telefono Che cosa significa ascoltare la musica in streaming? Significa che io ho la possibilità di scegliere tra una selezione di brani, una selezione di playlist e di ascoltarle sia su rete wifi che su rete 3G Ho anche la possibilità di scaricarla sul telefono per poterla ascoltare anche in mobilità senza nessun tipo di problema e sicuramente è un elemento che ci rende più interessanti rispetto a tutti gli altri E queste cuffie molto design? Sono nuove? Queste cuffie sono le cuffie Monster, hanno una qualità audio eccezionale sono disponibili in 4 colorazioni, bianca, nera, azzurra come questa, ciano e magenta Sono sicuramente il top per ascoltare la musica in mobilità Grazie mille, e invece questo nuovo prodotto? Questo è uno speaker Nokia 360 che dà la possibilità di ascoltare senza fili, quindi tramite bluetooth La musica è presente sul telefono, funziona, è perfetto per la mobilità, è perfetto per andare in giro Ha una potenza di suono incredibile ed è sicuramente un prodotto molto 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 divertente e giovane E più generalmente quando potremo trovare questi prodotti e una fascia di prezzo? Allora diciamo che il Lumia 610 che è un device entry level andrà su un prezzo comunque inferiore a quello dei 200 euro Mentre invece il Nokia Lumia 900 che è un top di gamma avrà un prezzo sui 499 euro Quindi un entry level e un device di top di gamma Grazie mille Grazie mille